Paura e tensione a Bacoli, dove questa mattina un uomo ha aperto il fuoco contro sua moglie con una pistola di piccolo calibro. Siamo in via a Terme Romane, una frazione del comune tra Baia e Fusaro. Qui, al primo piano di una palazzina, un uomo dell'età di 80 anni avrebbe sfoderato una pistola, l'avrebbe rivolta contro sua moglie e avrebbe aperto il fuoco. Non si conoscono ancora i motivi dietro il gesto. La donna di 77 anni è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ma al momento sembrerebbe essere fuori pericolo. Nel frattempo l'uomo si è barricato in casa sua e da diverse ore ormai la situazione di dialogo con le forze dell'ordine sembrerebbe aver raggiunto un unpass. L'anziano si rifiuterebbe di uscire, ma i militari non prendono iniziative per scongiurare il rischio che l'uomo, potenzialmente confuso, possa rivolgere l'arma contro se stesso. In via precauzionale, anche l'erogazione del gas è stata momentaneamente sospesa nella palazzina. Sul posto, i carabinieri tentano di mediare con l'ottantenne, ancora seragliato tra le mure di casa sua. Assieme agli agenti dell'arma, anche un manipolo di medici e infermieri, di vigili del fuoco e protezione civile, pronte a intervenire per fronteggiare qualsiasi esito possa venire fuori da questa situazione.